Il Prosecco Doc Brut di Podere Castello Aurin, azienda agricola del Feltrino, si aggiudica il primo posto al concorso enologico di Conegliano da Amadoro. Notevole riconoscimento è arrivato peraltro anche per l'Extra Dry, che ha ottenuto nella propria categoria il diploma di merito. Un onore che premia la nostra passione e tutto il territorio e ci sprona a fare ancora meglio, commenta la famiglia Gorza, che da alcuni anni ha avviato l'attività. Giunto alla sua 26esima edizione, anche quest'anno il concorso ha battuto ogni record. I campioni ammessi e analizzati dai commissari sono stati ben 491, in rappresentanza di 167 aziende provenienti da tutto il Veneto. Va ricordato, aggiungono i titolari di Podere Castello Aurin, che al concorso eno-conegliano sono ammessi solo i vini a denominazione d'origine, Doc e DOCG, ad indicazione geografica tipica, IGT e spumanti di qualità prodotti nella Regione Veneto. Questo ad ulteriore conferma dell'allevatura del riconoscimento ottenuto, concludono. Numerose le ragioni della vittoria. Innanzitutto il terreno della Piana di Fonzaso, che è storicamente rinomato proprio per la coltivazione della vite. Qui, con il microclima e il terreno diretto di fiume, dove è sito il Veneto, molto mineralizzato, ha permesso questo riconoscimento, diciamo, perché si è realizzato un ottimo brutto. E poi la passione condivisa con Gianni per il suo sogno nel cassetto, fin da ragazzo, per i suoi studi di agronomia e di attenzione proprio alla coltivazione della vite in sé.